Ragazzi, che partita, veramente, perché poi quando c'è da criticare il calcio italiano, mi metto in prima lina assolutamente, il livello del nostro campionato non sarà altissimo e comunque via, sono discorsi che ne abbiamo già la nausa assolutamente. Però, quando si guarda una bella partita, bisogna sottolinearlo, complimenti a Piogli e Spalletti che hanno veramente, attraverso il lavoro, cioè non attraverso i campioni, ma attraverso il lavoro, e poi ovviamente ci vuole anche l'attitudine e l'impieno dei giocatori, hanno costruito due belle squadre. Cioè, oggi io non ho nulla da dire neanche al Milan, cioè il Milan per me ha giocato meglio del Napoli oggi, ha creato tantissimo, nel primo tempo ha avuto 20 minuti bellissimi di azioni non individualiste, perché c'è qualcuno che dice che al Milan palla le ave e ci pensa lui, e vabbè, il Barcellona ci ha vinto due Champions così, palla Messi, però non era solo quello, è chiaro. Ma poi l'individualità, è ovvio che nel calcio ci deve essere, oggi era anche un po' il Napoli, no? Palla a Quarascheglia e ha fatto più casino che altro, secondo me, anche se si è procurato rigore. Però il Georgiano deve imparare a giocare con gli altri, non sempre da solo, chiaro, perché non è che puoi saltarne tre tutte le volte. Però, a parte quello, il Milan ha dimostrato, ragazzi, di essere una squadra corale, ma, voglio dire, vabbè, solo chi non capisce nulla di calcio, lo guarda col prosciutto davanti agli occhi, può pensare che il Milan sia leao dipendente. E' chiaro, c'è il Milan, qualsiasi giocatore gioca, gioca bene. Ma come anche in questo Napoli, è assolutamente un Napoli che è cresciuto, io stesso l'avevo sottovalutato in estate, anche se, ovviamente, mi ricordo quando avevo fatto il pronostico della classifica, il mercato doveva essere ancora fatto. Cioè, il Napoli aveva solo venduto e aveva comprato praticamente nessuno. Invece, tutti i nuovi acquisti sono ben integrati e oggi, ragazzi, c'è un Simeone, il papà, che piange perché sta perdendo il derby 0-2 al Wanda. Mentre ce n'è uno che ride ed è contentissimo, perché Giovanni Simeone è un giocatore che ci ho sempre creduto. Chi mi segue se lo ricorda, anche negli anni bui a Firenze, a Cagliari dove è un po' luce ed ombre, però il Ciolito è un giocatore vero. Un giocatore che ha coronato il suo sogno di segnare in Champions all'esordio e oggi ha segnato la scala del calcio. Dovrebbe essere, sì, il suo primo gol a San Siro, adesso vado a memoria, non sono sicurissimo. E' un grande gol prendendo il tempo a Tomori su Assis di Mario Rui, che è un giocatore, io ho uno così bistrattato, ma così forte non me lo ricordo. Cioè, Mario Rui è fortissimo, ragazzi. Poi non avrà la falcata, non avrà doti fisiche pazzesche, ma questo vale ancora di più. Cioè, Mario Rui è un giocatore assurdo, nelle letture, nell'intelligenza tattica, nelle scelte che fa, nella tecnica che ha, il cross che mette è bellissimo. Cioè, è anche poi difficile, è un cross alla tre quarti, quindi di solito sono cross prevedibili, però è un cross teso, tagliato, su cui Simeone poi è bravissimo e Tomori. E vabbè, si fa un po' sorprendere, ma ripeto, è stato bravo lui. Come anche, ecco, se posso muovere una critica a Pioli, oggi, ripeto, mancava Leao, ha scelto Krunic, che ha giocato bene, Decatelere, tre quartisi ha giocato bene. A volte, non lo so, deve tirare più in porta, perché lui è molto bravo a mettere in porta i compagni. A volte deve essere un po' più egoista, chiaro, un po' più spavaldo, presuntuoso, il giocatore belga, però il giocatore c'è assolutamente. Forse Salmechera, un pochino in ombra, Giroud, ovviamente, straordinario Giroud. Anche l'anno scorso mi ricordo tanti su Giroud, Giroud non gioca coi compagni. Per me gioca coi compagni, Giroud e fa anche gol, è quella la cosa più importante. Stavo dicendo, una critica che muovo a Pioli, questo fatto di togliergli ammoniti. Che so che anche Inzaghi l'ha fatto oggi, ma vabbè, io Inter-Udinese non l'ho vista, Udinese-Inter quindi non la commento, perché non l'ho guardata. Però me ne hanno parlato, me l'ha spiegata un po' mio padre, quando sono arrivato a casa. Però, Gir ci sta, perché Calulo è un altro pianeta. Poi Napoli con giocatori breviline e veloci, come Raspadori, Simeone, Politano, Guarascheglia, Gir affaticato. Gir li voglio bene, però qualunque un altro pianeta. Però Calabria, Calabria è un giocatore che ormai ha assunto una certa maturità, quindi come Inzaghi che mi toglie bastoni oggi. Sono giocatori ormai giovani, ma esperti. Non ho visto questa necessità di togliere Calabria, è chiaro. Ha messo Dest, che difensivamente, io lo conosco da Barcellona, non è assolutamente un funambolo. Però ha commesso questo errore, ma è un errore che potevano commettere altri. Non è poi neanche un fallo nettissimo, se vai a vedere. Il rigore ci sta, è chiaro. Quindi Guarascheglia, comunque, ripeto, a volte ha esagerato un po' nei dribbling, però lì è stato bravo, ha creato il panico. E ti serve i giocatori così, è chiaro che ha grande anche prepotenza fisica il giocatore georgiano. Rigore tirato da Politano, che si conferma rigorista, diciamo perché Zelisky ne ha sbagliati due a Glasgow e Politano invece l'ha realizzato, tirato malissimo. Quindi capiamo che, diciamo che se Zelisky non è bravissimo a tirarli, Politano, ecco, non è proprio eccelso anche lui. Perché lì, mamma mia, gli è andata bene che quando lo tiri basso, tante volte passa sotto. Però Maignan l'aveva intuito, veramente un rigore orribilissimo. Quindi, bravo, ma ha avuto anche un po' di culo. Dai, mettiamola così. Poi, Napoli che sembrava abbastanza in controllo perché i partenopei hanno assunto un atteggiamento, sin dal primo tempo, molto guardinco. Però, comunque, anche giusto. Ovvio che ti manca Osimen per le ripartenze. Raspadori non ha giocato male, però è stato poco servito. Chiuso nella morsa del duo Chier Tomori. Però, poi, una bella azione avviata da Diaz e Decatelere. Teo Hernandez, che poi negli ultimi 30 minuti è attaccato, veramente ha sprombattuto. Il giocatore, vabbè, che ve lo dico a fare, straordinario. Cross in mezzo e lì, proprio al centro dell'area di rigore, se lo dimenticano spesso, è lui. Risponde, timbra sempre il cartellino, l'ha fatto nel derby e soprattutto nei match che contano. Quindi, quello vuol dire che è un giocatore vero. Olivier Giroud fa 1-1. Lì ho avuto quasi la sensazione che il Milan la potesse ribaltare. Ha preso una traversa con Calulu. Lì aveva già senato il Napoli, però pazzesca. E poi, ve l'ho già raccontato, è arrivato il gol di Simeone. Attraverso una lettura di Spalletti, che oggi non era in panchina, che lo ha inserito al posto di Raspadori. Ha inserito anche Zerbin, che sono contento che si sta integrando in questa squadra. Però, vedete, quando le squadre girano, metti chi vuoi, che comunque, voglio dire, quando lavori bene in settimana, comunque il suo lo fa, chiaro. Il riferimento è puramente casuale alla Juve. Cioè, la Juve puoi mettere anche Di Maria, puoi mettere Neymar, che tanto giocherà male, chiaro, perché non è allenata. L'unico è il portiere, perché il portiere sta in porto da sole e lui para per in. Il resto è un disastro, ma a parte quello. Quindi, Napoli in testa, da solo? No, con l'Atalanta, perché oggi sono fatto un matrimonio, quindi non mi ricordo bene la scansione delle partite. Però sì, Atalanta prima che ha vinto a Roma, Napoli primo, però siamo tutti lì. Anche la Lazio ha meno tre. C'è l'Inter, che è un disastro, ha meno cinque. Quindi siamo tutti lì e tutti in divenire. È chiaro. Ragazzi, like, iscrivetevi e seguitemi su Instagram, che adesso parliamo anche degli altri match. Bella. Grazie.